C'è un artista dentro di te, non lo sai? Vieni al liceo serale e lo scoprirai. Liceo artistico statale Valentini? Non è una scuola per ragazzini. Ma puoi iscriverti anche tu. Una scuola passepartout. Multimediale, grafica, figurativo. Per imparare c'è sempre un buon motivo. Recupera la voglia di fare! Iscriviti al serale! Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza. Telefono 039 32 63 41 visamonza.it